La scuola come guida in questo momento di disorientamento. Così questa mattina alle telecamere di TV City, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi, Olimpia Tedeschi, ha raccontato le difficoltà che sta affrontando la scuola, uno dei settori più colpiti negli ultimi tempi. Dopo l'ordinanza del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, la preside ha espresso il suo parere e si è detta ottimista per il futuro della scuola. Colpiti sotto il profilo della gestione sicuramente, perché tra le tante realtà territoriali, nazionali e locali, forse la scuola è un'isola felice, nel senso che attraverso questa organizzazione capellare che è stata fatta dai dirigenti scolastici, dallo staff, a partire dal mese di luglio, si sono riusciti a creare all'interno degli edifici quelle condizioni di sicurezza che garantiscono ai ragazzi il distanziamento sociale, l'uso delle norme anti-covid, il divieto di assembramento, l'uso della mascherina. Quindi diciamo che eravamo partiti bene, eravamo partiti bene e onestamente nella scuola nostra, proprio in particolare la Giacomo Leopardi, fino a questo momento non ci sono stati nemmeno contagi o situazioni critiche, certo non dipende soltanto da noi, è tutta l'atmosfera intorno che viviamo che è critica e quindi dobbiamo sperare che il contagio si fermi. Però adesso capisco anche quelle che sono le perplessità di alcune famiglie, che hanno un po' paura, un po' timore di mandare i figli a scuola, così come capisco anche le direttive che sono state date a livello regionale per questa risalita dei contagi e quindi il governatore ha pensato di sospendere fino al 30 ottobre le attività, facendo poi riaprire successivamente quelle dell'infanzia. È un momento di disorientamento, però la scuola deve essere proprio in questo momento di disorientamento, una guida, un punto di riferimento per le famiglie, per gli alunni, per il personale, perché è quando c'è la crisi che viene fuori il senso di un'istituzione. Lei cosa ne pensa di questa ordinanza? Io obbedisco alla legge perché per principio, come cittadino, come dirigente scolastico, figura pubblica, ho rispetto profondo per tutte quelle che sono le decisioni dello Stato, di cui io sono appunto membro. Penso che sia stato un atto prudenziale nei riguardi di quello che è questa situazione un po' critica, così come penso che c'è stato un cambiamento per quanto riguarda la situazione dell'infanzia, perché evidentemente il governatore si è reso conto che creava un disagio molto grande per le famiglie, perché bambini piccoli è difficile tenerli a casa da soli, è difficile farli partecipare a una didattica a distanza. Probabilmente a breve dovrebbero riaprirsi anche le scuole primarie. Siamo in attesa di avere delle delucitazioni più tranquille, definitive, verso la fine della settimana. Siamo pronti. Se dobbiamo riaprire, riapriamo. I docenti amano i loro studenti, quindi non gli fa paura venire in presenza. E in questo contesto il vostro lavoro non sarà solamente quello di un'educazione scolastica attraverso la didattica, ma soprattutto un'educazione alla responsabilità? Sicuramente l'educazione alla responsabilità e in questo momento soprattutto è compito della scuola, così come della famiglia, così come di tutte le istituzioni pubbliche. E noi ci stiamo mettendo tutta. Abbiamo cominciato già dall'inizio, dai primi giorni di scuola, a spiegare il regolamento ai ragazzi, a fare appunto un corso approfondito attraverso i docenti, ma anche con la visione di filmati, su quello che significa essere responsabile delle proprie azioni, della propria salute e di quell'altrui. Poi accanto a tutte queste responsabilità ci sono le responsabilità del dirigente, che in questo periodo veramente sono tante, e diciamo non ci fanno riposare tranquilli. Qual è il messaggio che vuole dare a tutti i ragazzi? Io sono un'ottimista e sono un'educatrice, prima di essere un dirigente. Quindi credo che la scuola sia fondamentale, sia preziosa, sia insostituibile, che la scuola fornimenti pensanti, che la scuola abbia il dovere di dare un contributo formativo e umano alle nuove generazioni. Questo compito è altissimo, è profondo ed è meraviglioso. Quindi la scuola ci deve stare, deve continuare la sua azione, non deve demordere, e i ragazzi devono capire che devono venire a scuola e devono impegnarsi per il loro futuro.